L'ho definitivamente distrutta Nooo Ciao dolci unicorni Sono tornata finalmente Per la vostra gioia da Tiger E ho trovato queste due Bustone dove ho già sbirciato E sembra che magari le cose all'interno Dovrebbero essere consistenti Ma prima voglio salutare Un dolci unicorno, voglio salutare Flaminia, ma che bellissimo nome Un bacione, muaah Mi raccomando se anche voi volete essere salutati Nei nostri prossimi video, cosa dovete fare? Dovete essere iscritti al canale Lasciare like a questo video e soprattutto lasciare Tanti commenti giù, magari Gli erenti ovviamente al video O magari anche suggeriteci Qualche nome per un prossimo Guess di Age, perché ne andiamo A leggere tutti i vostri commenti Detto questo direi che possiamo Assolutissimamente iniziare subito Allora qui ho una busta con scritto Bimba e qui ho una busta con scritto Bimbo, qua la apriamo Per prima Vabbè, apriamo questo qua bimbo E ci leviamo il pensiero Vediamo cosa troviamo Questo momentaneamente la mettiamo giù Ok, allora io già di qua intravedo Una cosa rosa grande Sembra una testa con un buco al centro E ho paura E poi una sacca Non lo so Allora, iniziamo a spacchettare E beh, e l'ho rotta E l'ho rotta malissimo Molto bene E ok Diciamo, non è tanto ok E beh No, no Raga, aiuto E va bene Ok, ok Ora vado ad allargare L'ho definitivamente distrutta Ok Aiutai, mi sono fatta malissimo Ma che cos'è? Un uovo? Un uovo di Pasqua? Allora, è un puzzle All'interno di un uovo Di dinosauro Anche se in questo periodo Mi sembrava proprio un uovo di Pasqua Però va bene È un puzzle Con all'interno No, cioè È un uovo con all'interno un puzzle E il puzzle all'interno È questo qui Con dei mostri marini Sembrano, sì Cioè, dei pescioloni Molto molto grandi E si presenta così Devo dire Molto interessante I puzzle comunque In questo periodo Soprattutto dovrebbero rilassarci E vediamo cosa c'è dopo No, un altro dinosauro Ma questo è il triceratopo Allora, nella scorsa busta Abbiamo trovato Sembrava tipo un t-rex No? Adesso abbiamo trovato un triceratopo Io adoro il triceratopo Era il mio dinosauro preferito Quando ho guardato Jurassic Park Quando vedevo documentari sui dinosauri Il mio preferito era proprio questo qui Perché? Perché aveva questa sottospecie di corona La corona, infatti Io intendo questa parte qui dietro Che è tutta appuntita Guardate che carino Il triceratopo è bellissimo Anzi, fatemi sapere giù nei commenti Qual è il vostro dinosauro preferito? L'optelodattilo Il triceratopo Il t-rex Ce ne sono veramente tantissimi Ce ne erano veramente tantissimi Però vabbè Dettagli Andiamo avanti Eh, la busta Ma che è? Ma è gigantesca È un dinosauro componibile Sì, praticamente ti fanno costruire un t-rex Cioè ragazzi Qui dentro ci sta un dinosauro Con tutte le cose all'interno Con tutte le sue parti No, vabbè Cioè, no vabbè raga Veramente Sì Ma che bello Cioè È grande Non è soltanto la statuina Quella che abbiamo trovato l'altra volta In cartone È proprio da fare Questa è la colonna vertebrale Che cos'è? Molto bene Aiuto Mamma mia Fa impressione Ma devo dire che è molto carino Anche per un bimbo O per una bimba Metterselo nella cameretta O anche per un adulto Perché se piace il dinosauro Ti piacciono sempre Abbiamo trovato un altro Oh, questo non lo so Ecco, questo non sembra un t-rex Non lo so È come l'altro che abbiamo trovato l'altra volta? No, lo vedo leggermente diverso Ditemi voi Che dinosauro è questo? Non lo capisco Ha questi denti molto appuntiti Però non mi sembra un t-rex Boh Ditelo Eh, tereretete Molto bene Ditemi voi Che è tipologia Di tirannosauro Eh, di Vabbè, quello che è Avete capito Eh, di dinosauro Ecco, non mi veniva Ma che cos'è? Un airtag? Eh sì, è un airtag Cioè, l'ho detto proprio così Praticamente è un porta airtag Della Apple Cioè, è compatibile con l'airtag dell'Apple Ma che cosa carina È praticamente Sì, un portachiavi Con questo buco al centro Per mettere l'airtag Non so se lo sapete che cos'è Comunque è un dispositivo dell'Apple Che serve a farvi ritrovare la qualsiasi cosa Tipo il mazzo di chiavi In base a dove le mettere il portafogli Eccetera, eccetera Tipo io che sono molto disordinata E che perdo spesso la qualunque Molto interessante l'airtag E anche il cosino questo qui Molto carino, molto carino Anche perché un portachiavi Che costa veramente un botto E questo qui penso che sarà un euro Della Tiger Ok, quella del bimbo L'abbiamo terminata Con tutti i dinosauri E poi andiamo avanti con quella bimba Qui è molto più pesante La busta E sono curiosa Di vedere cosa c'è all'interno Soprattutto mi auguro Che non ci siano cose doppione E apriti Molto bene Anche questa aperta Mamalissimo Perfetto Ok Già c'è una cosa grande Vabbè, questo me lo mettete per una bimba Ma questo me lo mettete per le cose per la casa Praticamente sono dei pirottini Per fare dei cupcake Per una festa Di compleanno Per una festa Per una qualsiasi cosa Non lo so Però sono questa scatola E questa scatola di pirottini Così colorati In maniera arcobalenosa Che in questo periodo ci sta Proprio della grande E poi dei piccoli Stuzzichini di sopra Per prendere magari qualcosa E devo dire che Per la pace L'arcobaleno È proprio il simbolo migliore Che ci possa essere In questo periodo Quindi andiamo avanti Che cos'è? Nooo Un doppione Dopione, doppione Praticamente me la sono chiamata Ed è il Cioè una spugna Se vogliamo dire Che è una spugna È una spugna E si usa per pulirsi Cioè una spugna Che ci fai con una spugna Corinne? Però devo dire che è carina Perché sembra Molto carina Con questo orsacchiotto Però ce l'ho E quindi è un doppione Aspettate Ho preso mille cose all'interno Allora Ho trovato questa mascherina Molto carina Per dormire Carina O anche per fare delle challenge Con Andrea Io ogni volta che vedo maschere Penso delle challenge Più che per dormire In abbinato C'è anche questo Fermaglio per capelli Devo dire che l'idea Non è male Non l'ho mai vista da Tiger E quindi molto carina Come cosa che l'hanno messa lì E poi un peluche Di un cagnolino solitario Cioè ma che ci fai qui dentro Mi raccomando Se siete arrivati A questa parte del video Mi raccomando Scegliete il nome Per questo Dolcissimo peluche Come chiamiamo questo Cagnolino Piccolino Piccolino Ho detto Dai una cover per il mio telefono Nada ne nada È per l'11 pro E io ho il 12 pro max Però trovare una cover all'interno Non è affatto male È una cover pure protettiva Anche il davanti Carina Devo dire carina 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 Bella Bella Molto semplice Plasticosa Però trovare una cover all'interno Di una busta Devo dire che si può fare E ci sta Ma non è adatta per il mio telefono E va bene Poi Oh ma che cosa sai tu? Ma è un quadernetto Però non ha le righe È un quadernetto piccolo Ma non ha le righe Però è carino Perché comunque Un notebook Con questo orsacchiottone Ma è un orso Ma che cos'è? Che animale è? Che animale è secondo voi? Non lo sto capendo Se è un orso Se è un... Che cos'è? Non lo so Comunque è grigio Ma non ha le righe E io non sopporto i quaderni Senza righe Perché io non so scriverle dritto E quando scrivo Vado tipo O troppo su O troppo giù E si crea Un pasticcio Un padatraccone Cos'è? Un blocchetto per gli assegni 20 voucher De che? Che? Sono 20 voucher Che tu puoi usare In amore Ma che è? Vabbè comunque Sono dei voucher Penso simpatici Perché Cioè guardate C'è questo qui Con la bocca Troppo carini Ma devo capire Perché è tutto in inglese Quindi io con l'inglese Devo fare leggere tutto da Andrea Poi ho trovato Questa qua Che io le chiamo le marionette Però non so il nome Nello specifico Però è carina Perché è quello che tu metti le mani Poi Giustamente a me esce La canzone sicula Perché sono siciliana E quindi viene là Quella là Però è carina È una principessina Che batte le mani Ora potrei fare ore e ore Così È un pochettino anche Impazzita Guardate Cioè vabbè Molto carina Molto carina Devo dire che nella busta Della bimba Hanno messo tantissime cose In quella del maschietto Del bimbo Hanno messo due cose in croce Quindi La busta della bimba Promossa La busta del maschietto Bocciata Perché secondo me Potevano mettere più Più roba Hanno messo tre cose E quindi Non ci trovo sinceramente Il perché Detto questo Fatemi sapere Giù nei commenti Quale di queste cose Vi è piaciuta di più E mi raccomando Date un nome A questo dolcissimo Cagnolino Vi mando un grandissimo Baso Super mega Iper pucciato Vi voglio bene Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao dolci unicorni Ciao Ciao Ciao